Chiara Contin, Lisa Mangiaracina, Andrea Mangiaracina, avete fatto la staffetta? Sì, questa mattina alle 11. Com'è stato? Divertente. La prima volta che hai partecipato a un evento da Guinness? Sì, è la prima volta. Che emozioni avete provato? È stata una cosa divertente, poi soprattutto si sa che si fa per una cosa benefica, quindi è stato ancora più interessante. A me è piaciuto molto, è stato divertente. Fate nuoto, praticate nuoto, faccio nuoto libero così per hobby. Anch'io faccio nuoto libero. Cosa ne pensate di questo connubio tra sport e solidarietà? Che dovrebbe essere maggiormente incentivato. Che è utile. Cosa ne dite? Ce la facciamo a fare record? Speriamo. Salutiamo chi deve ancora fare la staffetta, li facciamoli in bocca al lupo? In bocca al lupo. In bocca al lupo. Grazie mille, ciao.